6 gennaio 2024, Anguera Madre addolorata Soffro per ciò che sta per accadere nel mondo Questo messaggio è un avvertimento importante per il nostro tempo. Viviamo in un mondo in cui le informazioni sono sempre più accessibili e in cui è facile essere ingannati. E' importante essere critici nei confronti delle informazioni che ci vengono presentate e di essere sempre pronti a difendere la verità. La Madonna sta parlando di un momento di confusione e di disorientamento. Le persone saranno indotte a credere in cose che non sono vere. La Madonna invita i suoi figli a rimanere fedeli alla verità e a fuggire le novità che si diffondono per compiacere il mondo. Leggiamo il messaggio Cari figli, fate attenzione a non essere ingannati. Gli agnelli diventeranno lupi e molti saranno condotti nel pantano delle false dottrine. Io sono la vostra madre addolorata e soffro per ciò che vi accade. Pegate le vostre ginocchia in preghiera. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e nell'Eucaristia. Attenetevi alla verità come sempre e fuggite le novità che si diffondono ovunque per compiacere il mondo. Non dimenticate, siete del mondo ma appartenete al Signore. Andate avanti in difesa della verità. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Grazie per avermi permesso di riunirvi.